sei stanca del tuo reggiseno così scomodo che devi continuamente aggiustare che non ti fascia che non ti contiene sei stanca di quei brutti segni che ti lascia sulle spalline e di quegli sgradevoli rossori e dolorose irritazioni sei stanca di quei fastidiosi ferretti di reggiseni opprimenti che ti fanno sempre sudare per non parlare dei gancetti per allacciarlo e che dire di quei segni e rotolini che non vanno più via e di quando si vedono sotto i vestiti da oggi tutto questo è finito con il nuovo rivoluzionario reggiseno comfort air il solo reggiseno che ti dà il massimo della comodità e che al tempo stesso ti contiene e ti avvolge perfettamente ma la sua vera innovazione oltre al tessuto totalmente traspirante ipo allergenico sta nel suo sistema brevettato a nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà la tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi e la sensazione sarà incredibile ti sembrerà di non indossare nulla grazie alla sua specifica fascia sottostante alla sua unica struttura brevettata al suo tessuto correttamente elasticizzato con tecnologia memory e alla sua massima morbidezza il tuo seno sarà perfettamente sostenuto così le tue forme saranno come le sempre desiderate e senza ferretti cinghie fibbie o gancetti comfort tire è anche facilissimo da indossare sia dal basso che dall'alto ed è perfetto per tutte le occasioni quando fai sport indossandolo singolo oppure doppio o quando devi essere elegante per un appuntamento importante sarà invisibile richiedere la tua taglia sarà semplicissimo perché sarà identica a quella della tua t-shirt small media large o extra large perché comfort tire è perfetto per tutte le taglie e per tutte le forme comfort tire è il reggiseno che respira che sostiene che ti fa star bene e che ti rende più bella e che deve essere tuo chiama subito e se ordini il tuo comfort tire triplicheremo l'offerta si potrai avere tre reggiseni comfort tire al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort tire al prezzo di uno ma aspetta non finisce qui se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua nessun aggiustamento continuo nessun arrossamento nessun ferretto nessun rotolino nessun dolore alla spalla nessuna fuoriuscita nessun vuoto non ti meriti forse un reggiseno che ti dia la massima comodità il massimo benessere che ti renda bellissima in tutte le occasioni finalmente comfort tire mette fine a tutti i tuoi problemi di reggiseno perché cari amiche tutte ci meritiamo di sentirci sempre a nostro agio in piena salute e belle in ogni occasione e in tutto ciò il nostro reggiseno ha un ruolo fondamentale ma l'ultima innovazione arriva direttamente dagli stati uniti e si chiama comfort tire con una rivoluzionaria struttura traspirante annito d'ape brevettata che permette alla pelle di respirare eliminando rossori e irritazioni i reggiseni della linea comfort si distinguono per qualità inconfondibili il tessuto morbido e perfettamente elasticizzato che si conforma perfettamente al tuo corpo qualunque sia la tua taglia e la tua coppa ed è facile e comodo da indossare perché non ci sono ferretti gancetti e spalline da sistemare perché grazie alla sua struttura brevettata sorregge il tuo seno alleviando il peso sulla schiena ma sentiamo una delle amiche che hanno già provato comfort tire quando indossi comfort tire senti che è diverso senti che tutto al posto giusto come dire ti senti come se qualcuno ti sostenesse ecco è questa la sensazione ho sempre avuto problemi con i vecchi reggiseni per via dei ferretti perché dopo un po di lavaggi il tessuto si rompe e spuntavano fuori ne ho portato uno per farvi vedere adesso con comfort tire questo problema non esiste più perché lo posso mettere in lavatrice e anche dopo tanti lavaggi è sempre come nuovo immaginate quanti soldi ho risparmiato sì comfort tire lo puoi lavare centinaia di volte in lavatrice e non perderà nella forma e nella consistenza nella morbidezza perché il suo tessuto è nuovo e rivoluzionario allo stesso tempo creato per darti il massimo della comodità per contenere e avvolgere perfettamente il tuo seno è un tessuto brevettato totalmente traspirante ipoallergenico con il suo sistema nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà alla tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi ma anche le più giovani hanno scoperto il reggiseno comfort tire avevo bisogno di un reggiseno che mi facesse sentire a mio agio in ogni momento della mia giornata ho scoperto comfort tire e non lo lascio più è perfetto sotto ogni tipo di vestito che decida di indossare chiama subito e ordina il tuo comfort tire anche perché oggi triplichiamo l'offerta sì hai capito bene triplichiamo l'offerta potrai avere non uno ma tre reggiseni comfort tire al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie e nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort tire al prezzo di uno è il momento di chiamare non farti sfuggire questo fantastico reggiseno al favoloso prezzo che vedi ma attenzione se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua è perfetto ho trovato il reggiseno che fa per me comfort air è perfetto perché mi sostiene mi fa sentire sempre a posto qualsiasi vestito indossi e mi dà la massima traspirazione e comodità comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti far star bene e che ti rende più bella deve essere tuo chiama allora e non perdere questa fantastica offerta sei stanca del tuo reggiseno così scomodo che devi continuamente aggiustare che non ti fascia che non ti contiene sei stanca di quei brutti segni che ti lascia sulle spalline e di quegli sgradevoli rossori e dolorose irritazioni sei stanca di quei fastidiosi ferretti di reggiseni opprimenti che ti fanno sempre sudare per non parlare dei gancetti per allacciarlo e che dire di quei segni e rotolini che non vanno più via e di quando si vedono sotto i vestiti da oggi tutto questo è finito con il nuovo rivoluzionario reggiseno comfort air il solo reggiseno che ti dà il massimo della comodità e che al tempo stesso ti contiene e ti avvolge perfettamente ma la sua vera innovazione oltre al tessuto totalmente traspirante ipo allergenico sta nel suo sistema brevettato a nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà la tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi e la sensazione sarà incredibile ti sembrerà di non indossare nulla grazie alla sua specifica fascia sottostante alla sua unica struttura brevettata al suo tessuto correttamente elasticizzato con tecnologia memory e alla sua massima morbidezza il tuo seno sarà perfettamente sostenuto così le tue forme saranno come le sempre desiderate e senza ferretti cinghie fibbie o gancetti comfort air è anche facilissimo da indossare sia dal basso che dall'alto ed è perfetto per tutte le occasioni quando fai sport indossandolo singolo oppure doppio o quando devi essere elegante per un appuntamento importante sarà invisibile richiedere la tua taglia sarà semplicissimo perché sarà identica a quella della tua t-shirt small media large o extra large perché comfort air è perfetto per tutte le taglie e per tutte le forme comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti fa star bene e che ti rende più bella e che deve essere tuo chiama subito e se ordini il tuo comfort air triplicheremo l'offerta si potrai avere tre reggiseni comfort air al fantastico prezzo che vedi e potrai scegliere nelle taglie nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort air al prezzo di uno ma aspetta non finisce qui se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua nessun aggiustamento continuo nessun arrossamento nessun ferretto nessun rotolino nessun dolore alla spalla nessuna fuoriuscita nessun vuoto non ti meriti forse un reggiseno che ti dia la massima comodità il massimo benessere che ti renda bellissima in tutte le occasioni finalmente comfort air mette fine a tutti i tuoi problemi di reggiseno perché care amiche tutte ci meritiamo di sentirci sempre a nostro agio in piena salute e belle in ogni occasione e in tutto ciò il nostro reggiseno ha un ruolo fondamentale ma l'ultima innovazione arriva direttamente dagli stati uniti e si chiama comfort air con una rivoluzionaria struttura traspirante a nido d'ape brevettata che permette alla pelle di respirare eliminando rossori e irritazioni i reggiseni della linea comfort si distinguono per qualità inconfondibili il tessuto morbido e perfettamente elasticizzato che si conforma perfettamente al tuo corpo qualunque sia la tua taglia e la tua coppa ed è facile e comodo da indossare perché non ci sono ferretti gancetti e spalline da sistemare perché grazie alla sua struttura brevettata sorregge il tuo seno alleviando il peso sulla schiena ma sentiamo una delle amiche che hanno già provato comfort air quando indossi comfort air senti che è diverso senti che tutto al posto giusto come dire ti senti come se qualcuno ti sostenesse ecco è questa la sensazione ho sempre avuto problemi con i vecchi reggiseni per via dei ferretti perché dopo un po di lavaggi il tessuto si rompe e spuntavano fuori ne ho portato uno per farvi vedere adesso con comfort air questo problema non esiste più perché lo posso mettere in lavatrice e anche dopo tanti lavaggi è sempre come nuovo immaginate quanti soldi ho risparmiato sì comfort air lo puoi lavare centinaia di volte in lavatrice e non perderà né la forma e né la consistenza né la morbidezza perché il suo tessuto è nuovo e rivoluzionario allo stesso tempo creato per darti il massimo della comodità per contenere e avvolgere perfettamente il tuo seno è un tessuto brevettato totalmente traspirante ipoallergenico con il suo sistema nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà alla tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi ma anche le più giovani hanno scoperto il reggiseno comfort air avevo bisogno di un reggiseno che mi facesse sentire a mio agio in ogni momento della mia giornata ho scoperto comfort air e non lo lascio più è perfetto sotto ogni tipo di vestito che decida di indossare chiama subito e ordina il tuo comfort air anche perché oggi triplichiamo l'offerta sì hai capito bene triplichiamo l'offerta potrai avere non uno ma tre reggiseni comfort air al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie e nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort air al prezzo di uno è il momento di chiamare non farti sfuggire questo fantastico reggiseno al favoloso prezzo che vedi ma attenzione se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua è perfetto ho trovato il reggiseno che fa per me comfort air è perfetto perché mi sostiene mi fa sentire sempre a posto qualsiasi vestito indossi e mi dà la massima traspirazione e comodità comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti fa star bene e che ti rende più bella deve essere tuo chiama allora e non perdere questa fantastica offerta sei stanca del tuo reggiseno così scomodo che devi continuamente aggiustare che non ti fascia che non ti contiene sei stanca di quei brutti segni che ti lascia sulle spalline e di quegli sgradevoli rossori e dolorose irritazioni sei stanca di quei fastidiosi ferretti di reggiseni opprimenti che ti fanno sempre sudare per non parlare dei gancetti per allacciarlo e che dire di quei segni e rotolini che non vanno più via e di quando si vedono sottivestiti da oggi tutto questo è finito con il nuovo rivoluzionario reggiseno comfort air il solo reggiseno che ti dà il massimo della comodità e che al tempo stesso ti contiene e ti avvolge perfettamente ma la sua vera innovazione oltre a tessuto totalmente traspirante ipo allergenico sta nel suo sistema brevettato a nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà la tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi e la sensazione sarà incredibile ti sembrerà di non indossare nulla grazie alla sua specifica fascia sottostante alla sua unica struttura brevettata al suo tessuto correttamente elasticizzato con tecnologia memory e alla sua massima morbidezza il tuo seno sarà perfettamente sostenuto così le tue forme saranno come le sempre desiderate e senza ferretti cinghie fibbie o gancetti comfort tire è anche facilissimo da indossare sia dal basso che dall'alto ed è perfetto per tutte le occasioni quando fai sport indossandolo singolo oppure doppio o quando devi essere elegante per un appuntamento importante sarà invisibile richiedere la tua taglia sarà semplicissimo perché sarà identica a quella della tua t-shirt small media large o extra large perché comfort tire è perfetto per tutte le taglie e per tutte le forme comfort tire è il reggiseno che respira che sostiene che ti fa star bene e che ti rende più bella e che deve essere tuo chiama subito e se ordini il tuo comfort tire triplicheremo l'offerta si potrai avere tre reggiseni comfort tire al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie nei colori che preferisci carne nero o bianco 3 comfort tire al prezzo di 1 ma aspetta non finisce qui se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua nessun aggiustamento continuo nessun arrossamento nessun ferretto nessun rotolino nessun dolore alla spalla nessuna fuoriuscita nessun vuoto non ti meriti forse un reggiseno che ti dia la massima comodità il massimo benessere che ti renda bellissima in tutte le occasioni finalmente comfort tire mette fine a tutti i tuoi problemi di reggiseno perché care amiche tutte ci meritiamo di sentirci sempre a nostro agio in piena salute e belle in ogni occasione e in tutto ciò il nostro reggiseno ha un ruolo fondamentale ma l'ultima innovazione arriva direttamente dagli stati uniti e si chiama comfort tire con una rivoluzionaria struttura traspirante annito d'ape brevettata che permette alla pelle di respirare eliminando rossori e irritazioni i reggiseni della linea comfort si distinguono per qualità inconfondibili il tessuto morbido e perfettamente elasticizzato che si conforma perfettamente al tuo corpo qualunque sia la tua taglia e la tua coppa ed è facile e comodo da indossare perché non ci sono ferretti gancetti e spalline da sistemare perché grazie alla sua struttura brevettata sorregge il tuo seno alleviando il peso sulla schiena ma sentiamo una delle amiche che hanno già provato comfort tire quando indossi comfort tire senti che è diverso senti che tutto al posto giusto come dire ti senti come se qualcuno ti sostenesse ecco è questa la sensazione ho sempre avuto problemi con i vecchi reggiseni per via dei ferretti perché dopo un po di lavaggi il tessuto si rompe e spuntavano fuori ne ho portato uno per farvi vedere adesso con comfort tire questo problema non esiste più perché lo posso mettere in lavatrice e anche dopo tanti lavaggi è sempre come nuovo immaginate quanti soldi ho risparmiato sì comfort tire lo puoi lavare centinaia di volte in lavatrice e non perderà né la forma e nella consistenza né la morbidezza perché il suo tessuto è nuovo e rivoluzionario allo stesso tempo creato per darti il massimo della comodità per contenere e avvolgere perfettamente il tuo seno è un tessuto brevettato totalmente traspirante ipo allergenico con il suo sistema nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà la tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi ma anche le più giovani hanno scoperto il reggiseno comfort tire avevo bisogno di un reggiseno che mi facesse sentire a mio agio in ogni momento della mia giornata ho scoperto comfort tire e non lo lascio più è perfetto sotto ogni tipo di vestito che decida di indossare chiama subito e ordina il tuo comfort tire anche perché oggi triplichiamo l'offerta sì hai capito bene triplichiamo l'offerta potrai avere non uno ma tre reggiseni comfort tire al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie e nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort tire al prezzo di uno è il momento di chiamare non farti sfuggire questo fantastico reggiseno al favoloso prezzo che vedi ma attenzione se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua è perfetto ho trovato il reggiseno che fa per me comfort air è perfetto perché mi sostiene mi fa sentire sempre a posto qualsiasi vestito indossi e mi dà la massima traspirazione e comodità comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti far star bene e che ti rende più bella deve essere tuo chiama allora e non perdere questa fantastica offerta sei stanca del tuo reggiseno così scomodo che devi continuamente aggiustare che non ti fascia che non ti contiene sei stanca di quei brutti segni che ti lascia sulle spalline e di quegli sgradevoli rossori e dolorose irritazioni sei stanca di quei fastidiosi ferretti di reggiseni opprimenti che ti fanno sempre sudare per non parlare dei gancetti per allacciarlo e che dire di quei segni e rotolini che non vanno più via e di quando si vedono sotto i vestiti da oggi tutto questo è finito con il nuovo rivoluzionario reggiseno comfort air il solo reggiseno che ti dà il massimo della comodità e che al tempo stesso ti contieri e ti avvolge perfettamente ma la sua vera innovazione oltre al tessuto totalmente traspirante ipo allergenico sta nel suo sistema brevettato a nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà la tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi e la sensazione sarà incredibile ti sembrerà di non indossare nulla grazie alla sua specifica fascia sottostante alla sua unica struttura brevettata al suo tessuto correttamente elasticizzato con tecnologia memory e alla sua massima morbidezza il tuo seno sarà perfettamente sostenuto così le tue forme saranno come le sempre desiderate e senza ferretti cinghie fibbie o gancetti comfort air è anche facilissimo da indossare sia dal basso che dall'alto ed è perfetto per tutte le occasioni quando fai sport indossandolo singolo oppure doppio o quando devi essere elegante per un appuntamento importante sarà invisibile richiedere la tua taglia sarà semplicissimo perché sarà identica a quella della tua t-shirt small media large o extra large perché comfort air è perfetto per tutte le taglie e per tutte le forme comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti fa star bene e che ti rende più bella e che deve essere tuo chiama subito e se ordini il tuo comfort air triplicheremo l'offerta si potrai avere tre reggiseni comfort air al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort air al prezzo di uno ma aspetta non finisce qui se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua nessun aggiustamento continuo nessun arrossamento nessun ferretto nessun rotolino nessun dolore alla spalla nessuna fuoriuscita nessun vuoto non ti meriti forse un reggiseno che ti dia la massima comodità il massimo benessere che ti renda bellissima in tutte le occasioni finalmente comfort air mette fine a tutti i tuoi problemi di reggiseno perché care amiche tutte ci meritiamo di sentirci sempre al nostro agio in piena salute e belle in ogni occasione e in tutto ciò il nostro reggiseno ha un ruolo fondamentale ma l'ultima innovazione arriva direttamente dagli stati uniti e si chiama comfort air con una rivoluzionaria struttura traspirante annito d'ape brevettata che permette alla pelle di respirare eliminando rossori e irritazioni i reggiseni della linea comfort si distinguono per qualità inconfondibili il tessuto morbido e perfettamente elasticizzato che si conforma perfettamente al tuo corpo qualunque sia la tua taglia e la tua coppa ed è facile e comodo da indossare perché non ci sono ferretti gancetti e spalline da sistemare perché grazie alla sua struttura brevettata sorregge il tuo seno alleviando il peso sulla schiena ma sentiamo una delle amiche che hanno già provato comfort air quando indossi comfort air senti che è diverso senti che tutto al posto giusto come dire ti senti come se qualcuno ti sostenesse ecco è questa la sensazione ho sempre avuto problemi con i vecchi reggiseni per via dei ferretti perché dopo un po di lavaggi il tessuto si rompe e spuntavano fuori ne ho portato uno per farvi vedere adesso con comfort air questo problema non esiste più perché lo posso mettere in lavatrice e anche dopo tanti lavaggi è sempre come nuovo immaginate quanti soldi risparmiato si comfort air lo puoi lavare centinaia di volte in lavatrice e non perderà né la forma e nella consistenza né la morbidezza perché il suo tessuto è nuovo e rivoluzionario allo stesso tempo creato per darti il massimo della comodità per contenere e avvolgere perfettamente il tuo seno è un tessuto brevettato totalmente traspirante ipoallergenico con il suo sistema nido d'ape che creando un continuo circolo d'aria nei punti più sensibili e delicati consentirà alla tua pelle di poter respirare liberamente evitando rossori fastidiose sudorazioni e continui fastidi ma anche le più giovani hanno scoperto il reggiseno comfort air avevo bisogno di un reggiseno che mi facesse sentire a mio agio in ogni momento della mia giornata ho scoperto comfort air e non lo lascio più è perfetto sotto ogni tipo di vestito che decida di indossare chiama subito e ordina il tuo comfort air anche perché oggi triplichiamo l'offerta sì hai capito bene triplichiamo l'offerta potrai avere non uno ma tre reggiseni comfort air al fantastico prezzo che vedi e potrai sceglierli nelle taglie e nei colori che preferisci carne nero o bianco tre comfort air al prezzo di uno è il momento di chiamare non farti sfuggire questo fantastico reggiseno al favoloso prezzo che vedi ma attenzione se chiami adesso proprio adesso ti regaleremo anche tre fantastiche clip a cosa servono le userai se vorrai dare maggiore lift e sostegno al tuo seno o per nascondere le spalline del tuo reggiseno dietro al tuo vestito preferito ma attenzione questa offerta è valida solo se chiami adesso chiama allora e questa fantastica offerta sarà tua è perfetto ho trovato il reggiseno che fa per me comfort air è perfetto perché mi sostiene mi fa sentire sempre a posto qualsiasi vestito indossi e mi dà la massima traspirazione e comodità comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti far star bene e che ti rende più bella deve essere tuo chiama allora e non perdere questa fantastica offerta sei stanca del tuo reggiseno così scomodo che devi continuamente aggiustare che non ti fascia che non ti contiene sei stanca di quei brutti segni che ti lascia sulle spalline e di quegli sgradevoli rossori e dolorose irritazioni da oggi tutto questo è finito con il nuovo rivoluzionario reggiseno comfort air il solo reggiseno che ti dà il massimo della comodità e che al tempo stesso ti contiene e ti avvolge perfettamente comfort air è il reggiseno che respira che sostiene che ti far star bene e che ti rende più bella deve essere tuo chiama allora e non perdere questa fantastica offerta